Buongiorno a tutti che la pace del Signore sia con tutti voi e anche questa mattina sabato 29 aprile 2023 andremo a meditare la parola del Signore. Preparati a incontrare il tuo Dio. Questo testo lo trovi in Amos capitolo 4 versetto 12. Invece il titolo della meditazione di oggi è Tragica indifferenza. Un uomo giunge alla stazione correndo, si precipita trafelando verso il treno che sta per partire e prende posto in un scombartimento. Ha fatto una bella corsa gli dice un viaggiatore. Sì gli risponde ansimando ma ho guadagnato 4 ore e 4 ore meritano una corsa. 4 ore meritavano così un grande sforzo? Che dire allora dell'eternità? Eppure molte persone che hanno cura dei propri interessi materiali sono completamente indifferenti riguardo all'eternità che li attende. Nonostante l'infinito amore che Dio ha manifestato sulla croce di Cristo verso gli esseri umani miserabili e ribelli e il suo totale ripudio nei confronti del peccato, nonostante la brevità della vita dell'uomo qua giù e il giudizio divino che lo attende dopo la morte con la terribile prospettiva di risvegliarsi e scoprire di essere dalla parte peggiore cioè l'inverno. Nonostante tutto ciò, molti vanno incontro alla loro fine senza pensare a Dio, alla morte, al giudizio, al cielo e all'inverno. Lettore, se sei tra coloro che manifestano indifferenza di fronte a ciò che li attende nell'aldilà e non prendono posizione, sappi che il pensiero di rimandare ad un altro momento è opera di Satana che tenda ad incarnarti perché è bugiardo, è omicida. Questo lo trovate in Giovanni 8 44. Qualcuno dirà io non sono indifferente riguardo al futuro della mia anima, il mio turbamento e la mia angoscia derivano dall'incertezza, dall'incertezza in cui mi trovo. Tanto l'indifferenza quando l'incertezza derivano dall'ingredulità. In questo preciso momento Dio vuole risvegliare il tuo interesse e toccare la tua coscienza. Non riportarti contro di Lui, ricordati il suo amore. Un giorno perché noi fossimo salvati ha mandato a morire il suo figlio sulla croce, perché subisse Lui al nostro posto, il giudizio di Dio per le nostre corpe. Ora Dio attende che tu lo riceva nel tuo cuore come personale salvatore per donarti la salvezza. Egli ha affermato chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Lo troverete anche in Giovanni capitolo 5 versetto 24. Caro ascoltatore voglio farti una domanda. Che cosa ne pensi della vita eterna? La vita eterna è un luogo che ci sta preparando il Signore perché tu, io e chiunque creda nel Signore andrà in quel luogo, andrà nel paradiso. Perché se tu credi allora sarai salvato ma se tu non credi non sarai salvato e ti risveglierai all'inverno come dice la parola del Signore. Quindi non lasciare perdere, cioè non mettere da parte il Signore. Leggi subito, affiancati al Signore. Caro ascoltatore, io ti auguro una bellissima giornata che il Signore ti benedica.